19 voti favorevoli, 7 contrari e 7 assenti compreso il sindaco. La mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino di Barletta, Cosimo Cannito, è stata approvata poco prima della mezzanotte. Finisce così anticipatamente la consigliatura. La città sarà commissariata. La votazione della mozione, presentata da coalizione civica, è arrivata dopo un pomeriggio lunghissimo entrato nel vivo alle 16.45 con l'intervento del sindaco. In un'ora Cannito ha ripercorsi i suoi tre anni di amministrazione, elencando in maniera dettagliata tutti i progetti portati avanti, partendo dai cantieri, primo fra tutti quello per la rimozione del passaggio a livello di Via Andria, passando per la riapertura della scuola d'Azelio, fino ad arrivare al recupero del Trabucco, altre opere in via di definizione come lo Stadio Puttilli ed eventi come il Giova Beach. Dopo aver rimarcato le difficoltà dovute al Covid, che ha condizionato un anno e mezzo di amministrazione, Cannito si è rivolto ai consiglieri fuoriusciti dalla maggioranza per passare in cantiere Barletta, indicandoli come la vera e propria causa della sua caduta. Terminato il suo intervento, il sindaco, commosso, ha abbandonato l'aula senza assistere alla discussione. Sono contento di aver lavorato per la mia città, di aver lasciato con i conti in ordine, di aver fatto quello che ho comunicato al Consiglio Comunale, che è tantissimo, di aver purtroppo molte di queste cose sarebbero state realizzate prima se non avessimo avuto il Covid, se non avessimo avuto una burocrazia che frena invece di accelerare le opere. Quindi sono tranquillo e sereno, ho detto e dichiaro anche che avrei voluto continuare a farlo il sindaco, però purtroppo i numeri sono quelli che contano in democrazia e quindi sono tranquillo e sereno, riprenderò la mia vita professionale. Dopo l'uscita di scena di Cannito la seduta è proseguita con una dialettica a tratti aspra. I consiglieri della maggioranza, riprendendo quanto espresso dal sindaco, hanno puntato il dito contro gli ex colleghi di coalizione che a loro volta hanno rispedito al mittente le accuse, negando l'esistenza di ogni condizionamento esterno alla base della decisione di non proseguire l'esperienza di governo cittadino. Dal canto loro le opposizioni hanno parlato di fallimento annunciato per un progetto civico troppo eterogeneo per poter durare. Alla fine, come da previsione, la mozione di sfiducia è stata approvata. Venerdì sarà celebrato l'ultimo Consiglio Comunale, poi toccherà al Commissario Prefettizio condurre la città alle prossime elezioni amministrative.